Demitri, industria leader in Europa nella produzione di paraspigoli e profili per l'edilizia, dal 1984 in ogni angolo di casa vostra. E allora amici di non solo male, dalla tappa di Crotone Offshore con noi c'è un volto che per molti sarà familiare, Eliana Cartella, l'isola dei famosi, insomma molti l'abbiamo visto là abbandonata su un'isola. Sì, sono finita qua a Crotone. Ma direttamente con un offshore? Sì, 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 mi hanno portato loro dall'Hondura fino a qua. Per fare prima hai detto prendo un offshore e così dall'isola a Crotone. Sì, sì, infatti un'oretta ero qua, vanno veloci. Sono barche molto veloci, tu non conoscevi il mondo dell'offshore? No, prima no, finché non sono arrivata qua, che poi sono informata su a cosa vanno, quanti gradi ci sono dentro. Ogni pelota perde, mi hanno detto, dei 4-5 kg per 40 minuti di gara. Perché c'è il caldo e lo stress e anche, insomma, sappiamo quanto è impegnativo. C'è il caldo, c'è. E questo è un mondo che adesso da due anni si affaccia su quello che è la costa qua di Crotone, di tutta la parte bassa della Calabria. Speriamo che lo facciano anche l'anno prossimo, che magari anch'io sono ancora madrina. Speriamo. Abbiamo visto ieri sera, infatti, eri madrina con delle bellissime ragazze giovanissime, che ricordiamo quasi tutte sono qua di Crotone, quindi le bellezze crotonesi. Sì, poi hanno partecipato a Miss Colonia, Miss Country, fanno dei concorsi di bellezza, per poi la vincita è Miss Crotone e verranno tutti a Milano, dove sto io, che li condurrò nelle agenzie di moda. E questo per quanto riguarda la sfilata di ieri sera, ma oggi sappiamo che tra poco arrivano e grazie a te, insomma, saranno ospiti. Grazie a me, grazie a Domenico Leto, che grazie a lui io sono qua e lo ringrazio fortemente perché mi ha fatto conoscere anche delle splendide persone. E questo sarà... Lo sai che noi rompiamo sempre le valle quando tu falli. Ecco, questi sono due piloti dell'offshore, così conoscete Eliana dell'Isola dei Famosi, Andrea Cardinali, vabbè lui è Diego Testa, oh scusa. Dell'Isola dei Famosi? Sì. Ma va che roba, ma va che roba. Questo è Diego Testa, un pluricampione che ha vinto tanto, Andrea Cardinali è un giovane promettente, con una barca tra l'altro che lui... Allora dopo ti vediamo molto. Lui, torna Andrea, torna un attimo Andrea, torna un attimo, lui devi sapere che corre oggi con una barca. Corri o con la barca, l'ho capito, corri o in barca? Corro sempre, però anche in barca. Facciamolo vedere, lui correrà con una barca che ha costruito il suo nonno, che adesso, il suo nonno l'ha costruita quest'anno, tutta in legno, il suo nonno ha 90 anni. In legno? E va? Va, va. Quindi fatta ancora come si faceva una volta, no? Maestro Dacia l'ha modellato in legno e ha fatto con la barca rossa che vedrai tra poco. Oh, complimenti! Quindi è una cosa, come si dice? È una cosa enorme che speriamo che riusciamo a portarla a termine, perché comunque ci vanno gli anni. E' una famiglia o una generazione? Sono da terza generazione io che faccio sta cosa, sì. È proprio di famiglia, è bello, proprio un hobby, quindi. Questo è uno sport che richiede... Che era navale, civita vecchia, quindi è lavoro nostro. Ma che quanti ci sono dentro? Quanti... Mentre guidi? Dopo penso a una sessantina arriveremo, non è una cosa fa. Tu la buta avete, vero? Sì, più la tuta, tu, sì, se muore. Infatti è magro. Eh vabbè, questo aiuta per il peso della barca, che altrimenti, sai, anche i 20-30 kg contano, perché ci sono... Anche i 10. Anche i 10. C'è qualcuno che resta senza benzina. Ma quindi più sei magro, più vai veloce, no? Una persona come te pagherebbe dove portarla a barca. Sì, quindi va di più. Sì. Ah, ok, quindi in base al peso anche della persona. Ah, vedi, questa è una cosa nuova che non sapevo. È così, hai cominciato a conoscere un po' il mondo dell'offshore, grazie Andrea, dopo ci vediamo noi. Sono sul correre una copilota e io ci sono, eh. Per due ore io non ho niente da fare. Ma stamattina hanno fatto l'experience offshore? Eh, io stamattina ero a dormire. Stamattina ho portato 30 persone. Eh, lui ha portato tanta gente oggi stamattina. Hai fatto fare il giro? Eh. E uscivano che erano altro che sudati. Altro che palestra, eh. Sì, vengono a prendere a casa. Scusa, volevo sapere, tu eri all'Isola dei Famosi? Sì. E che cosa facevi sull'Isola dei Famosi? Niente. Ecco, torniamo seri. Allora, è conosciuto un po' quelli che sono i piloti, questi sono alcuni dei piloti che corrono in offshore, poi appunto dicevamo che con te queste ragazze verranno, saranno ospiti dei paddock per avvicinarsi alle nostre barche e soprattutto ai protagonisti, perché sono loro poi che fanno l'offshore insieme alle loro barche, in questo caso abbiamo visto addirittura un pilota con una barca fatta in famiglia, sono simpaticissimi. Sì, sì, sono tutti alla mano, sono veramente bravi. Però sono anche bravi in acqua, perché poi non è semplice. Eh, ho visto ieri qualcosina e oggi vedremo le altre due gare che inizieranno tra poco, tra l'altro, quindi ti dovrò salutare perché tu vai su. Esatto, io tra poco c'è un elicottero che mi aspetta. A me mi tocca stare qua, è colpa tua, però non mi vuoi, vabbè, me ne farò una ragione, ci vedremo dopo tra due ore. Ti saluterò da sopra quando hai una barca per vedere la gara? Non hai ospite, sì, da qualche parte ti ospito. Adesso organizziamo. Sì, sì, a me mando avanti Teller. Adesso organizziamo per farti essere su una barca, così vedi la gara da vicino e spieghi anche alle ragazze come funziona questo mondo, insomma vi appassionerete sicuramente, un mondo molto particolare, pieno di adrenalina, di emozioni forte. E donne e motori, oggi è donne e barche. Sempre motori, perché qua fa molto fanca il motore, ovviamente. E' un nuovo sport che io non avevo mai sentito parlare, credimi. E noi siamo contenti di averti con noi per fartelo conoscere, questo sport, e tu sarai sicuramente una bravissima e bellissima portavoce nel mondo, di quello che è il mondo dell'offshore, perché questo è uno sport che quando lo vedi una volta poi facilmente poi ti viene voglia di riesci. Volevo fare un ringraziamento se magari chiamiamo qua Gennaro e Domenico, che grazie a loro che io sono qua oggi. Noi ringraziamo noi perché prima abbiamo fatto un pranzo che era più che un pranzo ieri sera. Tra salsicce e pecorino crotonese, cioè veramente è una cosa... E' qua che ci guarda, è qua che ci guarda. Infatti vorrei fare qualche domanda, cosa dici? Lo teniamo qua con noi? Facciamolo entrare, Gennaro. Gennaro, così ci racconta un po'. Gennaro Condello che ha offerto a tutti i piloti, a tutti i team, insomma ci ha fatto apprezzare tutte le specialità della Calabria, come già era successo in parte l'anno scorso, quest'anno ancora di più, ci ha veramente viziato. Infatti adesso il nostro problema che tra poco inizia la gara è qua, tra il mangiare e il bere, speriamo che i piloti... Qua è impossibile tornare a casa magri, ve lo dico, qua è impossibile. Devono restare lucidi. Volevo dire una cosa e vi volevo introdurre, è quella che ha detto Eliana. ha detto donne e motori, ma soprattutto c'è l'arte culinaria della cucina calabrese, che è il massimo che io in queste occasioni non perdo l'opportunità per diffonderla. Grazie all'amico Piras... E grazie a me che ho mangiato. Perché è una buona porchetta. Anche io, eh. Anche io. Purtroppo di Costituzione, ma la porchetta... Viva il mare di Calabria, d'Italia, ma soprattutto di Crotone, e grazie a voi che siete intervenuti per farvi, per far conoscere a tutti quello che è l'ospitalità che c'è in Calabria. E che vi contraddistingue nel mondo. Ecco, ma soprattutto qua a Crotone, vorrei ringraziare l'organizzazione, in primis il presidente Ugo Pugliese, che ci ha dato la possibilità e di fare questo evento e di mettere questo, diciamo, questo evento in risalto in tutto il mondo. A Crotone, per risaltare il posto che dicevano che non viene molto valorizzato. Comunque il merito, io sto prendendo i meriti, i miei meriti sono soprattutto di Marco, mio figlio. Che è lui Marco. E dopo andremo a intervistarlo. E dopo andremo a conoscere. Esatto, adesso i tempi stringono. Noi ringraziamo Gennaro, veramente. Grazie. La roba buona che mi ha dato ieri. Perché ci ha detto... Ponello ringrazia tutto lo staff, tutto l'organizzatore, tutti i nostri. Ma non finisce qua, ma non finisce qua. L'anno passato è stato, diciamo, l'aperitivo. Ora siamo all'antipasto e spero che in futuro saremo un pranzo completo. Un pranzo completo. Un pranzo, cena, dolce, caffè. Per avere un pranzo completo in Calabria bisogna investire circa tre anni perché ci si abitua a quello che è la ricchezza degli ingredienti, tutti i prodotti tipici che poi in mano a persone come loro che sanno anche cucinarle e davvero diventa difficile andare via. Soprattutto li portiamo in giro per tutto il mondo. Noi siamo orgogliosi perché questa è l'eccellenza dei prodotti made in Italy. Dell'Italia. E del territorio. Dell'Italia perché noi siamo italiani prima di tutti, della Calabria e soprattutto per l'attaccamento che abbiamo per questa terra, il crotonese. Quindi se siete delle buone forchette venite qua a Crotone. Allora noi sicuramente lanciamo questo messaggio e adesso con le ragazze andiamo a conoscere i team perché poi dopo parte la gara per cui adesso le chiami e le portiamo a vedere cosa è l'offshore. Perfetto, allora le chiamo e andiamo. Ciao, ciao. Ci vediamo dopo. Grazie Gennaro ancora per la rosa. Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao Gennaro. Il mondo secondo me è comunque un'impresa anche perché veniamo comunque... E' una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale del 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Allora prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Allora prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.